Mentre si attende di conoscere l'esito dell'autopsia sul corpo di Paolo D'Amico, il 55enne ucciso a casa sua a Barisciano, continuano le perquisizioni e sopralluoghi nella zona del delitto. C'è molto riservo da parte degli investigatori del Nucleo Investigativo dei Carabinieri dell'Aquila, ma la giornata di ieri di certo ha fornito spunti ulteriori sull'indagine. Oltre al sopralluogo sulla scena del crimine, i carabinieri hanno effettuato delle perquisizioni anche a casa di amici della vittima. Il fascicolo è stato aperto per omicidio volontario, al momento contro i gnoti. Ad eseguire l'autopsia sono stati i medici Giuseppe Calvisi e Cristian Donofrio. I carabinieri continuano a sentire persone vicine a D'Amico come persone informate sui fatti, ma nulla trapela. Secondo una prima ricostruzione, D'Amico, che si sarebbe difeso per schivare i colpi, probabilmente conosceva i suoi aguzzini. Più di uno, perché ucciso fuori dall'abitazione sarebbe poi stato trascinato dentro da più persone appunto. Al momento non c'è nessun collegamento tra la morte di Paolo D'Amico e il rinvenimento di piantine di marijuana a casa sua, poste queste sotto sequestro. I carabinieri hanno portato via alcuni oggetti dalla casa isolata che ricade nel piccolo comune di Barisciano, compreso un oggetto appuntito che lui usava per lavori di bricolage, che potrebbe essere l'arma del delitto, compatibile con le ferite riportate dal D'Amico e sporca di sangue, probabilmente usato per sferrare i colpi al torace. Essenziale anche il contributo dei RIS sulla sciana del crimine. La pista più accreditata sembra essere al momento quella di un debito, soldi prestati probabilmente per terminare i lavori nella casa e mai restituiti, ma di certezza al momento non ve ne è alcuna o quantomeno nulla emerge.